Noi adesso le abbiamo scritte le equazioni di Richards, ma dobbiamo porci anche il problema di risolverle. E che cosa bisogna fare per risolvere un'equazione? Beh, in questo caso è un'equazione differenziale alle derivate parziali. Quindi, intanto dobbiamo scegliere il dominio dove andiamo a risolvere le nostre equazioni. Generalmente il dominio in cui andiamo a risolvere le equazioni di Richards è un dominio molto complesso. E' come quello rappresentato in questo disegno, che è un disegno storico perché è importante, è legato a uno dei primi modelli che hanno tentato di risolvere in maniera coerente le equazioni di Richards. E che cos'è? Sulla superficie noi abbiamo un fiume, per esempio. E poi abbiamo una parte invece in cui c'è un terreno, un suolo insaturo. Quello che vedete segnato da un esempio, dalla superficie verdina sulla superficie e dal disegno blu attorno al fiume. Poi abbiamo un dominio che si estende all'interno del terreno. In particolare avremo due tipi di flusso. Il flusso negli acquiferi più in basso e il flusso nella parte insatura e in alto. Qui vedete che anche tutto è rappresentato come una griglia, una griglia tridimensionale. Questo perché nel momento in cui noi andiamo a risolvere le equazioni, abbiamo davanti a noi due possibilità. Una è quella di risolvere le equazioni con un metodo analitico. Ma non è detto che tutte le equazioni abbiano delle espressioni analitiche chiuse, anzi il più delle volte questo non accade. E quindi dobbiamo fare riferimento alle soluzioni con un metodo numerico. Il metodo numerico richiede la discretizzazione dello spazio in parti su una griglia e noi gli daremo dei valori, per esempio, in un metodo che si chiama volumi finiti o differenze finite, noi daremo il valore della quantità in esame, per esempio il contenuto d'acqua del suolo, nel centroide di ogni punto della griglia, e i flussi invece sulle superfici della griglia. Poi esistono vari metodi per risolvere le equazioni e su questi magari mi soffermerò in ritardo. Naturalmente descrivere il sistema su una griglia non è sufficiente, bisogna determinare anche almeno due cose. Le condizioni iniziali. Cosa significa le condizioni iniziali? Significa che per ogni punto della griglia io devo dare il valore del campo, in questo caso ψ, che è la mia variabile di integrazione. O se vogliamo anche θ potremmo dare. come condizioni iniziali all'istante t uguale a 0 quando noi cominciamo a risolvere. Però il nostro sistema è anche limitato intorno a dei confini, dei boundary e quindi dobbiamo dare delle condizioni al contorno. Le condizioni iniziali, come dice il nome stesso, le diamo all'istante t uguale a 0. Le condizioni al contorno le dobbiamo dare per ogni istante per ogni istante in cui noi calcoliamo l'evoluzione del nostro sistema all'interno. Una volta che abbiamo assegnato le condizioni al contorno e le condizioni iniziali e naturalmente abbiamo le equazioni, tre elementi fondamentali, abbiamo le equazioni, abbiamo le condizioni al contorno e abbiamo le condizioni iniziali, ce ne manca in realtà un quarto che però elenco dopo. Mi chiedo se esiste una soluzione analitica di questa equazione, ovvero se posso dare un'espressione in qualche forma complicata di soluzioni che risolva l'equazione di Richards. In generale la risposta sarà non esiste una condizione, una soluzione analitica delle equazioni di Richards. Per quanto riguarda le condizioni al contorno, quali tipo di condizioni al contorno posso assegnare? Per esempio. Le condizioni iniziali, voi capite, sono un problema comunque difficile da determinare perché in ogni punto di questo spazio io dovrei fare un'ipotesi su quale valore ha il mio campo. In questo caso ho delle acque sotterranee mentre magari per le acque superficiali uno potrebbe avere un'idea che è piuttosto così innocente ma di avere, di fare misure per ogni punto della griglia cosa che ovviamente è costosa, impossibile e non attuabile e per le acque sotterranee diventa molto più complicato perché nelle acque sotterranee noi non le vediamo, dobbiamo fare dei buchi, dobbiamo usare dei sistemi dei sistemi particolari e quindi le condizioni iniziali sono già un problema di per sé. Sulle condizioni al contorno possiamo pensare di agire in questo modo. Per esempio possiamo pensare se noi abbiamo una pioggia che qui è chiamata JDT possiamo pensare che la pioggia è uguale il flusso di Buckingham e il flusso di Buckingham in verticale, in questo caso il flusso di Buckingham era nelle equazioni precedenti e sarebbe stato KZ DPSI su DZ più KZ DZ su DZ DZ su DZ in questo caso è 1 dipende da come e quindi rimane solo il KZ KZ è il termine praticamente di infiltrazione gravitativa. Cioè sto dicendo sulla superficie c'è una precipitazione che cade e questa è uguale al flusso di Buckingham che è questa espressione esplicitata qui. Sulla verticale non dico niente su quello che avviene lateralmente perché non ho indicazioni su che cosa dire. Però questa potrebbe essere una buona condizione al contorno. sul fondo del dominio questo era sulla superficie del dominio dove ricevo la pioggia. Sul fondo del dominio quello che posso per esempio dire è che DPSI su DZ è uguale ad 1. In questo caso significa mettere uguale DPSI su DZ uguale a 1 non significa dire che il mio flusso verso il basso è semplicemente uguale a quello che al flusso che avverrebbe per effetto della gravità. Se invece ho un fondo impermeabile DPSI su DZ è uguale a 0. DPSI su DZ è uguale a 0 vuol dire che la variazione di TETA su DZ a sua volta è uguale a 0 non c'è flusso verso il basso. Si possono anche mettere delle condizioni diverse potrei anche assegnare per esempio il campo PSI al fondo o sulla superficie. Se metto condizioni sulle derivate la mia condizione al contorno si chiama condizione di Neumann. Se invece metto delle condizioni sulla mia variabile PSI le condizioni si chiamano condizioni di Dirichlet. Per quanto riguarda le condizioni iniziali una buona idea potrebbe essere che il mio sistema è verticalmente idrostatico. Su questo posso tornare magari più tardi con la lavagna bianca ma cosa vuol dire? Idrostatico anzi in una delle prossime lezioni lo vedremo anche meglio. Idrostatico significa che il mio sistema il mio flusso non avviene verticalmente non avviene. In questo caso siccome la forza motrice è PSI più Z vuol dire che il gradiente in particolare la derivata fatta rispetto a Z di PSI più Z è uguale a 0. Questa condizione si traduce in un profilo come questo che vedete disegnato in basso in cui ho un profilo idrostatico è meno ROGH in questo caso meno ROGH Z sulla verticale e tutto in equilibrio. Sarà il mio sistema veramente in equilibrio come in questo caso? In genere non lo è. Tutti i sistemi con i quali noi abbiamo a che fare anche nelle acque sotterranee non sono mai in equilibrio idrostatico e alcune volte possono essere in condizioni vicine all'equilibrio idrostatico ma generalmente non lo sono. Però tra le condizioni iniziali che possiamo mettere questa è una condizione ragionevole. Dire che all'inizio se non ci sono altre condizioni tutto in qualche modo in equilibrio se non esiste una soluzione analitica del mio problema devo trovare una soluzione numerica scusate mi sto facendo una nota e se dopo la soluzione numerica una volta che ho la risoluzione numerica supponiamo che io ce l'abbia stampo il risultato in realtà la risoluzione numerica non è una cosa così banale ho due opzioni uno vado a vedere se c'è un codice numerico che mi risolva le equazioni di Richards e lo compero che sarà l'operazione che farete voi perché voi userete un codice che è stato sviluppato dal gruppo dei miei collaboratori in particolare da Nicolò Tubini e questo codice che si chiama GeoFrame Richards 1D risolve l'equazione di Richards nel campo verticale ma supponiamo per un attimo che voi non aveste un codice allora dovete prima capire in base alle equazioni quale metodo numerico va bene per risolvere queste equazioni quali sono gli algoritmi che dovete usare dovete discretizzare l'equazione e dovete scrivere poi il programma che risolve queste equazioni cioè quindi è un programma piuttosto complesso è come se voi volendo cucinare il vostro pranzo la vostra cena doveste costruirvi la cucina ogni volta diventa un po' complicato tra le condizioni che io avevo enunciato prima per risolvere l'equazione c'era la determinazione delle condizioni iniziali la determinazione delle condizioni al contorno ma ancora manca un elemento che è la determinazione dei parametri nell'equazione di Richards se voi vi ricordate vi ho detto ci sono vari parametri per esempio il KS l'alfa di Wangenukten l'M la N sempre di Wangenukten il TETA residuo e la porosità del suolo in un campo tridimensionale come quello che abbiamo in teoria noi ovviamente questi parametri possono variare nello spazio possono essere diversi da ogni punto dello spazio quindi non devo solo determinare questi sei parametri che vi ho elencato ma sei milioni di parametri se ho un milione di celle sulla quale devo risolvere la mia equazione è ovvio che non sia possibile fare in questo modo si devono trovare dei ragionevoli compromessi e comunque il problema della determinazione dei parametri delle curve di Richards è un problema serio che noi ci porremo fra poco in uno dei prossimi risultati comunque assodato che voi abbiate i parametri abbiate le condizioni iniziali e abbiate le condizioni del contorno che sono tre operazioni che anche voi dovrete fare nelle vostre simulazioni delle vostre esercitazioni potete eseguire il codice numerico sia che l'abbiate comperato sia che l'abbiate prodotto voi e dovete poi stampare il risultato e questa è la semplificazione di quello che che vi ho già detto in tutto quanto quindi queste sono le operazioni che vi che vi trovate davanti non appena vi affrontate un problema di questo tipo ci sono delle domande? Possibile che non ci siano delle domande grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.